La concentrazione è stata la nostra forza, il saper raddoppiare ogni palla, il saper sacrificarci. Sapevamo che venire qui non era semplice, siamo venuti due volte ed è un campo ostico, abbiamo sempre fatto fatica, ma fortunatamente l'abbiamo portata a casa. Oggi era importante uscire di qua con un risultato positivo e oggi dico che la prestazione... Ma ti dico, noi ci siamo concentrati per venire qua e uscire da qua con un risultato positivo, consapevoli del fatto che il ritorno l'avremmo giocato in casa. Il fattore campo era importante oggi ed è importante la settimana prossima, perché come sappiamo noi in casa abbiamo maturato tante vittorie, se non sbaglio 11, con quella di primezza della semifinale scorsa e quindi sappiamo che il nostro campo è un fortino.